Per i fan di Harry Potter, a Signa, in provincia di Firenze, torna il raduno nazionale degli amanti del maghetto di Hogwarts. Dal 27 agosto al 1 settembre sono previste iniziative di magia e stregoneria a Villa Alberti. Al centro della manifestazione il gioco di ruolo dal vivo intitolato Il Quarto Cerchio. Per sei giorni i partecipanti si troveranno in una situazione, in un'ambientazione di mondo magico, un po' come se fossero ad Hogwarts e potranno cimentarsi in una serie di attività come il quiddici, il ballo del ceppo, le lezioni con professori di astronomia, cure delle creature magiche, divinazione, difesa contro le arti oscure e si troveranno a vivere una situazione come se fosse il mondo reale all'interno di complesso di attività sul territorio. Signa possa mostrarsi, Signa con questa sua villa, con il castello, con l'enae, con tutte le sue realtà, il museo della Paglia e oltre, riesce ad avere un insieme di elementi in cui anche un'attività importante come questa può inserirsi bene.